Siamo con il dottor Mohamed Aboubakar nella moschea che si è inaugurata da qualche giorno a Lanciano, che non è solo moschea. Questa è non solo moschea, la nostra si chiama Associazione Centro Culturale di Lanciano, che consiste da diverse cose. Una parte di loro è una moschea, perché sono i musulmani che devono fare la preghiera, il luogo di incontro di fare questa preghiera. Inoltre le famiglie che vivono qui a Lanciano, che vengono a vedere tra di loro e conoscere, sono quasi più di dieci nazioni che vivono qui a Lanciano. In questi giorni è iniziato il Ramadan, inizia un periodo particolare. Cosa significa? Vuol dire, il Ramadan vuol dire fare digiuno, digiuno dal mattino alle 5 fino alle 6 di pomeriggio, che vuol dire non si mangia, non si beve. Questo significa che ognuno può resistere, può riconoscere cosa vuol dire una fame, perché le persone che non hanno da mangiare, da bere, quando uno sente questa cosa, è una cosa che la religione islamica ha fatto il primo posto per fare questa. Quando edizia il Ramadan e quando finisce? Il Ramadan è iniziato il 23 di marzo e finisce il 22, cioè noi siamo al sistema solare che è 29 o 30 giorni. Dipende da quando si vede la luna, quindi può darsi che è il 22 o il 21. Quindi dipende dalla fase lunare? La fase lunare, sì. La moschea, noi generalmente facciamo una direzione verso Makkah, cioè il luogo sacro dei musulmani. Quindi si fa un luogo dove quelli che dirige la preghiera vanno avanti e le altre saranno dietro. Quindi proprio qui? Questa cosa si chiama Qibla, che vuol dire dire direzione di Makkah. Direzione di Makkah. Dietro ci sono tutte le gente che si fanno in fila così, uno all'altro, uno all'altro. Ed dietro fanno le donne, la loro parte, questa parte è per le donne, che fanno la preghiera anche loro dietro degli uomini, perché per sentire cosa dice quello che dirige la preghiera, imam, che loro sentono anche qui. Ma in questi giorni del Ramadan, com'è organizzata la giornata, la preghiera? Ogni giorno c'è cinque volte da fare preghiera, però il Ramadan c'è un più, la sera si fa. Quindi da noi, quando finiamo il digiuno, ognuno mangia un pochettino, poi viene alla moschea, verso le otto. Giungo che noi, il nostro centro culturale, vogliamo fare una parte della comunità dove viviamo. Noi siamo italiani e viviamo anche se abbiamo la nostra religione, però tutti in Italia siamo amici, fratelli, e noi accogliamo qualsiasi persona, qualsiasi idea.